Ora faremo un altro pezzo nostro, questa è Valentine's Afternoon, questa è la storia del nostro chitarrista, Serafino, ve lo presento. E lui durante un pomeriggio trova un sacco di analogie tra lui e lei e questa sarà una cosa che a lui farà pensare. E vide che in quel pomeriggio c'erano tutte quelle cose che sono effettivamente belle e che ogni tanto ci scordiamo. Grazie. 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 face who used to be, what's going on, your words, my mouth, within the voices of other words, you ask me why, I ask you so, that I have no answer on the wrong, no equality people, no equality world, but that is your sorrows day in the afternoon to go out in the square tonight, see the light through the window one more time, only the border on the road, and you, to make up line of view, on the scheme of the town, the world of my own, I have a dream to keep myself up from the ground so Grazie a tutti Grazie